Pamela, dico a te, ci sei? No, io ho visto che tu imiti Elena alla perfezione, mi fai Elena un attimo, fammi il ciclone Elena, ti prego, guardate che cosa non fa la Petrarolo, vai Petrarolo. Ma con i tacchi ho paura, mi rilevo al volo, ci metto un secondo. Certo, assolutamente, un tacco da niente, Petrarolo. È la prima cosa che ho trovato, Alfonso. È la prima cosa che ho trovato, ecco. Eh, immagino, sì. Arriva Elena. Il turbine Elena entra nella casa del grande fratello. Sei fortissima. Ci divertiamo Alfonso! Eh, certo che ci divertiamo, anch'io mi diverto con voi un sacco.